Che cosa illumina poi questa luce in particolare? Il rapporto tra il soggetto, non so parlare di soggetto poetico, ma anche naturalmente tra il lettore, l'individuo e la storia e il suo presente. Perché se andiamo a prendere la certi del presente, e questo ho fatto fin dall'inizio, rendendosi conto come al pari della grande poesia di Bound, di Eriot, che la realtà, la cultura, una cultura occidentale, una cultura di detriti, di rovine, per andare a prendere questi ricacerti e porli in modo da creare delle fatture, delle scintille, appunto da aprire questi spiragli, è quanto si può suggerire al lettore. Per educare il lettore, ma in una maniera, come abbiamo sentito, estremamente garbata, ironica, anche a volte l'auto ironica, tanto da non consolare il lettore, ma appunto da risvegliarlo. L'ultimo testo che ha letto Nami Restrini è il coro primo di Lettra, è una delle sue opere poesie, non è l'unica Lettra, ce ne sono altre, e per lì la costruzione di montaggio, l'avete sentito anche in Abdi Cage, è unita al principio della ripetizione con variazione, variazione di posizione, che è quanto appunto, a mio giudizio, garantisce poi l'efficacia di questi testi, cioè la funzionalità proprio strutturale di questi testi, che hanno una gabbia, peraltro, che è una gabbia ferrea molto spesso, fondata o su un principio, forse potremmo dire, a volte di area controllata, a volte numerico, a volte alfabetico, ma comunque è una struttura che ne garantisce il funzionamento. Parlavo della storia, e con questo poi vorrei richiudere l'anno di rapporto, nei confronti della storia, nel rapporto evidentemente sempre anche politico, ideologico, a questo sappiamo che ogni forma di espressione, non una forma di espressione, è sempre pericolo di ideologia, non tratta che appunto il binomio di ideologia e linguaggio è stato, come dire, esposto e ben spiegato da Sanguiniti. La storia, l'abbiamo ascoltato, è una storia congelata, è una storia scritta necessariamente dai vincitori, dunque qualcosa che va soppertito. e nella lunga opera di Palestrini, in versi, in poesia, abbiamo il modo di guardare come nel tempo lui si sia espresso a favore di un antistoricismo radicale che sovverde, mescola le carte. e quindi non gli mette a posto le cose così come il potere, in un rete, pretende che sia in ordine, ma rovescia quello che non ci aspetteremo, quello che il potere ci ha raccontato, che la comunicazione impone, comunicazione che è una forma di potere. Per cui fin dagli anni Sessanta, e la poesia, diciamo, dei primi decenni di Palestrini, è il primo volume che raccoglie la sua opera completa, appunto, è un obbligato da Deriva Brodi, nel caso della cura, l'introduzione di Riva Lorenzini. Ma fin dai primi anni Sessanta, questo è stato molto chiaro. Penso il testo come Che le terre, che appunto inizia, quando mettiamo le cose a posto e poi sovverte completamente aggiungendo e mescolando alcuni fatti della storia, e anche l'apparenza, le prime e i primi documenti del Volgare. Quindi anche quello è un testo degli anni Sessanta che riflette su se stesso, riflette sul mezzo, cioè sulla scrittura, perché ci sono piccoli raccetti dei primissimi documenti del nostro Volgare, del Placido Capuano, che le terre, evidentemente, all'indominello veronese. Ma la scrittura lì si rende molto chiara e correa di una certa inclinazione del potere, cioè di un'inclinazione appunto storicistica, perché si chiude il testo, dopo aver parlato dell'imperatore dell'Ide, dopo aver parlato di un prodotto, con una di chiara indicazione sul processo, cioè la scrittura era, in quel caso è stata la prima operazione della scrittura, una attestazione di proprietà, e la proprietà è in potere, insomma possiamo facilmente dedurre tutto questo. Come si soverte la storia? Si soverte appunto tagliando, ed è il meccanismo del contagio, tagliando, facendo sanitare la continuità, questo secondo un principio beniaminiano che è, lo credo, sotteso, tutta la produzione di palestrini, molto chiaramente sotteso lì, e appunto rimescolando le cose, mettendole in un contatto diretto tra di loro, in modo che se ne veda la giuntura, si veda anche il momento in cui la frizione non è più, non si può più taccedere, quindi è evidente questa frizione. Io per adesso mi fermerei e lascerò di nuovo la parola a Nanni Balestrini, alle sue letture, e poi per un'attuale mente, se necessario, a riprendere anche io. Grazie.